Ciao a tutti! Scegliere questi prodotti è stato difficile perché da Natura Si sono tutti buoni i prodotti Noi ci andiamo circa una volta al mese quando cambiano le offerte Però ogni volta che andiamo prendiamo questi prodotti che sono buoni e non costano tanto Allora, prendiamo sempre questi barattoli di legumi tra cui le lenticchie, i ceci ma anche il misto di quattro legumi E poi prendiamo anche i fagioli neri Questi sono di marca Ecor, gli ingredienti sono molto buoni, sono tutti coltivati in Italia E vedete qui tra gli ingredienti queste lenticchie e acqua Oppure i ceci, i ceci ed acqua Quindi sono veramente buoni Anche questi ve li abbiamo fatti vedere nel video cosa mangio in un giorno Un misto di quattro legumi Sono borlotti, i ceci, i cannellini, i fagioli, i rossi e l'acqua Quindi gli ingredienti sono buoni, sono italiani e sono bio Allora, come prezzo I ceci, le lenticchie e il misto di quattro legumi Il prezzo costa intorno a 1,05 euro Invece i fagioli neri 1,02 euro Questi prezzi sono stati un po' alzati Perché comunque il mese scorso costavano 99 centesimi Però è un prodotto che anche per il prezzo si può comprare Poi abbiamo questo orzo solubile Sempre di marca Ecor Questo c'è scritto 100% orzo italiano E questo lo prende mio padre e dice che è molto molto buono Poi prendiamo questa bevanda di riso Della The Bridge Al riso più vaniglia Questa la utilizza mia mamma e dice che è molto buona Sì, questa la bevo io, mi piace molto È una bevanda biologica a base di riso con vaniglia senza glutine Molto molto buona e gradevole Quest'anno l'abbiamo presa in offerta intorno a 1,60 euro Sì, più o meno Poi prendiamo questa polvere lievitante per dolci biologica Questo è un po' caro veramente perché costano 1,50 euro Sono tre bustine In solito il lievito pane angeli tre bustine 99 centesimi le paghiamo Però questo anche dagli ingredienti si vede che è buono Sono buoni Infatti è amido di maestro biologico, agenti lievitanti, tastato di potasso E' estratto dalle uve, bicarbonato di sodio Io ci trovo molto bene con questo lievito Solo che, come vi ho detto, è un po' costosino Poi prendiamo questa pasta Allora, inizialmente prendevamo questa pasta integrale Sempre di marca Ecor Invece poi abbiamo iniziato a prendere questa pasta di marca Natura Sì Sì, hanno fatto la loro linea di prodotti adesso E anche questa è buona per pasta di semola 100% di crano duro trafilata al bronzo Sono buone tutte e due Noi questa l'abbiamo trovata in offerta a 1,55 euro Questi sono i nostri prodotti Spero che questo video vi sia piaciuto Se anche voi acquistate questi prodotti e li avete provati Fateci sapere se a voi sono piaciuti O se avete dei preferiti da indicarci Fateceli conoscere, scriveteci giù nei commenti Ciao a tutti e al prossimo video Ciao